Da 160 anni, Poste Italiane è un protagonista fondamentale del tessuto economico, sociale e produttivo del sistema paese, grazie alla sua presenza, alla sua riconoscibilità, alla sua rete senza eguali e alla fiducia da parte della clientela. Oggi, con il nostro piano strategico, continuiamo a guidare la crescita e lo sviluppo sostenibile, promuovendo l'innovazione e la digitalizzazione dell'Italia. Un percorso di crescita condiviso con stakeholder e comunità, per generare valore economico, sociale e rispetto per l'ambiente. L'approccio multicanale dell'azienda ha consentito di rispondere tempestivamente ad un mercato in continua evoluzione, accentuata dalla pandemia. Una strategia, quella di Poste, che fa leva sulla capillarità della sua rete fisica e sull'innovazione tecnologica, volta a rafforzare sia la capacità operativa degli uffici postali, che ad offrire al contempo nuovi canali di accesso ai suoi tanti prodotti e servizi. La performance record del 2021 è stata caratterizzata da solidi risultati, che hanno ampiamente superato gli obiettivi del piano. Forte l'incremento dei ricavi registrato, con un aumento di circa 694 milioni di euro rispetto ai risultati 2020. In ambito postale, ci confermiamo operatori fondamentali per accelerare la crescita e la transizione di un business sostenibile, con la consegna di un milione di pacchi al giorno, grazie alla piena operatività di quattro grandi hub, costruiti ed attivati nell'ultimo triennio. Nei servizi finanziari, gli sforzi profusi per presentare sul mercato un'offerta sempre più ampia, accessibile e trasparente di soluzioni di risparmio e l'investimento, sono ripagati dalla fiducia e lealtà dei nostri clienti. Siamo leader nei servizi assicurativi, con un portafoglio d'offerta completo e sostenibile. Riguardo al comparto pagamenti, siamo il primo operatore italiano per carte emesse, con una quota di oltre il 25% del mercato, ricoprendo un ruolo chiave nella diffusione dei pagamenti digitali. Con oltre 2 miliardi di transazioni con carta, di cui un quarto per l'e-commerce. Nel 2021, la crescita di poste nelle transazioni digitali è stata del 100% rispetto all'anno precedente. L'azienda, oltre ad essere la più importante rete di distribuzione del paese, ne è anche il più grande datore di lavoro. Ogni giorno abbiamo 20 milioni di interazioni con clienti, cittadini e comunità, attraverso una rete fisica e digitale che non ha eguali. L'attività svolta da poste permette di generare impatti su PIL, reddito da lavoro, occupazione e contributi alla pubblica amministrazione, per un valore complessivo di quasi 50 miliardi di euro negli ultimi 4 anni. Siamo valutati per le nostre pratiche industriali sostenibili da istituzioni ed indici più importanti al mondo, riconosciuti come best in class per le nostre strategie e per le attività operative, premiati ogni anno per la trasparenza e la comunicazione con cui informiamo il mercato e i media. Siamo al fianco di tutte le comunità locali, dalle grandi città ai piccoli comuni, verso i quali abbiamo assunto impegni concreti e dove operiamo ovunque a stretto contatto con le istituzioni e le comunità. Siamo diventati un modello di business internazionale per scelte strategiche, la trasformazione industriale e i risultati. Ci evolviamo, mantenendo un'attenzione costante ai nostri clienti e ai territori, trasformando il nostro lavoro. Avanziamo nel raggiungimento dei nostri obiettivi, cresciamo in settori chiave e acceleriamo la nostra trasformazione digitale, consapevoli che il nostro successo non è misurato solo dalla performance industriale e finanziaria, ma anche dal sostegno che garantiamo al Paese. Noi ci siamo, sempre, grazie alle nostre persone, donne e uomini di Poste Italiane.